Sindaco Ferrara, tanti casi di coronavirus, tanta preoccupazione per le varianti al punto che si ritorna a organizzare lo screening di massa sulla popolazione di Chieti? Sì, lo faremo il prossimo fine settimana, quindi non questo ma il 6 e il 7 di marzo, dando fondo a tutte le residue, energie, materiali e psicologiche che l'amministrazione ha messo in campo e può mettere ancora in campo, spero per un periodo limitato di tempo, in quanto siamo assolutamente stremati sotto questo punto di vista. Faremo questo ennessimo weekend di screening cercando di confermare il successo non solo quantitativo di persone che vengono screenate come è accaduto nei due precedenti fine settimana, ma anche cercando di dare un taglio migliore qualitativo al nostro screening e mi spiego, praticamente faremo in modo di invitare gli studenti, quindi sia delle superiori, delle medie e perché no anche delle elementari a venire a fare il tampone così come i lavoratori delle industrie private in maniera tale da aggiustare il target delle persone tamponate in quella fascia di cosiddetta età produttiva che maggiormente ci interessa perché è vero che devono farlo tutti lo screening, però le persone che ogni giorno si alzano per andare a lavorare, che si muovono, che vanno nei luoghi pubblici e gli studenti che torneranno a scuola sono queste le persone che ci interessano maggiormente da valutare.